Ascoltiamo Deja Vu di Vinicio Simonetti. Ciò che ha sempre pensato di me, la gente confessa, ogni cosa va da sé, oddio non te ne andare, stai da me o un bilocale, aspetta quando ti va a te, vuoi dirmi di dove vieni, chi ti ha fatto quei buchi ai piedi, non è che a modarti dell'invisibile, è che quando non ci sei sul pelo limite, da giovane è difficile resistere, ogni attimo ti insegna come vivere, non c'era più nessuno da distruggere, nemmeno uno scemo da cui prenderle, ho preso a pugni il mio modo d'essere, perché confittuale è il mio esistere, Però a me non mi sta bene niente, perché indovina lo tu, oh raga è difficile parlarne, sembro grande dell'amore, però a me non mi sta bene niente, perché indovina lo tu, forse sto a provare a non immaginarmi, libero da schiavitù. E adesso io non resto zitto, insisto nel cercare la tua provenienza, qual è la residenza della tua coscienza, Non cerco risposte facili, oddio sto per volare, sono un passo da levitare, sto fermo, vedo scorrere, deserti, oceani, fiumi, laghi e mare, poi boschi, mesolite tangenziali, Non è che non mi fidi degli antichi, ma non credo siamo avanti e megalitifra, potenzialmente noi siamo gli antipodi, di tempi sfarzos di virtuosi e ciclici, Che trovano consiglio in ogni identità, che ogni tempo ed ogni età percorrerà, per riportare ciascuno alla sua metà, la voglia di tornare ad essere unità, Ma spero a me non mi sta bene niente, perché indovino da giù, oh raga è difficile parlarne, sembra grande déjà vu, Però a me non mi sta bene niente, perché indovino da giù, forse sto provando a immaginarmi, libero da schiavitù. Complimenti, Vinicio, una stretta di mano, che bello, a me piacciono molto le canzoni, io amo tutta la musica come voi, Conducendo anche programmi in radio, e vi dicevo come sono belli i fischi, vero, nelle canzoni, soprattutto quando sono così raffinati. Chi di voi sa fischiare? Vogliamo provare, vuoi farlo tu e adesso il pubblico ci accompagna. Proviamo? Sì. Senza la base? Senza la base. Vediamo. Seguite lui. Anche con le mani. Insieme. Sì, il ritmo, quello jazz, quello funky, quello un po' particolare che coinvolge tutti. Facciamo insieme di nuovo. One, two, quando lo facciamo così, e ciac, 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 ciac. Ok, 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 perfetto. Fischiate, io non so fischiare. Quel motivetto che ci piace tanto, vi ricordate la pubblicità quando eravamo bambini, insomma, che fa così, bello, magari questa domani, fischiettate questo motivetto, che è quello di Vinicio Simonetti, che è un altro dei finalisti di questa bellissima idea che il professore dell'associazione mediterranea non ha avuto, il Cine Festival, International Song Contest, e dopo scopriremo naturalmente chi sarà il vincitore. Allora, adesso devo darti questo invito, è un invito al Galà Disco Novità di Radio Idea, il 17 luglio, a Morfette, a Benevento, per te. A Morfette, scusa, Benevento, Bari, pensavo alla mia città, quindi va bene, Bari, ok? Quindi da parte di Radio Idea e ci vediamo.